ben tornati bentornati sul canale mi sa che devo risettare l'audio vediamo se ora va meglio bentornati sul canale dunque vincono largamente vincono juve e juve atalanta nel tardo pomeriggio ha vinto vinto l'atalanta 4 a 0 4 a 0 a lecce mentre la sera ha vinto la juve 3 a 0 con il como in rete per l'atalanta brescianini e reteghi doppietta a testa reteghi anche sul calcio di rigore in rete per la juventus invece bangula uea e nel finale cambiaso tutti esterni tutti esterni e non ho visto tantissimo della partita dell'atalanta ho visto fino a ancora 0 a 0 quindi ho visto metà del primo tempo diciamo così dopo di che ho visto nulla da quello che ho letto insomma non non ci deve essere stata grossa grosso grosso match nonostante i vari problemi dunque lockman che chiede la cessione copmainers che chiede la cessione eccetera eccetera l'atalanta ha un'impalcatura di gioco ha una situazione ben definita a livello di strategia di di gerarchie e va avanti anche a dispetto delle dei capricci chiamiamoli così dei capricci dei singoli la juventus la juventus è già campione d'italia campione d'italia 24 25 prima era il milan poi dopo il pari col torino vinto la juve quindi juventus già campione d'italia perché dico così perché cosa è successo largamente atteso contro un como appena arrivato in serie a privo di varan che era la stella lucente di questo mercato poi si è fatto male pure mazzitelli altro altro non arrivato prima della partita con la juve sostituito a baselli che si fa male durante la partita la juve poi altri infortuni vari insomma anche un po penalizzato da questi infortuni dall'altra parte una juve coraggiosa nelle idee anche nelle scelte motta è andato con anche con giocatori semi sconosciuti come appunto bangula poi entrato savona nel suo tempo dove essere fatto male voi eccetera eccetera e il diz dietro vlaovic ecco forse una delusione un po vlaovic paio di gol mangiati però si è mosso bene devo dire ma in generale un como che se l'ha andata a giocare a torino a viso aperto e inizialmente quella percezione della dell'arroganza della sana arroganza no della squadra che vuole fare calcio arriva in serie a e poi chiaramente viene bastonata in ripartenza in casa della juve quindi vi fa capire insomma anche la differenza forse di di peso no e di leggerezza mentale se ci ricordiamo genoa inter il genoa ha fatto praticamente 85 minuti fino al 2 a 1 asserragliato nella propria area giocando in casa il como appena arriva in serie a va a giocarsi da viso aperto con la una juve esponendosi ai alle ripartenze una juve che per come filosofia comincia diciamo ad avere le sembianze del tiago motta pensiero mettiamola così non c'è ancora veramente l'impronta totale ma qualche traccia interessante devo dire si è si è intravista chiaro che poi tutto va anche parametrato all'avversario di di turno perché vi dico questo perché se io vi vado a rileggere no i titoli giornali della prima giornata l'anno scorso peraltro udinese juve 0 3 stesso risultato lì si giocava il 20 agosto oggi si è giocato il 19 quindi un giorno prima prima pagina la gazzetta dello sport esordio boom chiesa vlahovic decidono in 20 minuti che bella signora tre gol a udine segna pure rabbio allegri ritrova gioco personalità e leader e all'interno questa è la vera juve chiesa vlahovic rabbio che trissa allegri fa festa udinese distrutta i bianconeri ritrovano il bel gioco e i gol pratica già chiusa nel primo tempo friulani senza anima e mai in partito corriere dello sport juve altro che corto muso una straordinaria prova di forza di bianconeri al debutto in campionato vantaggio lampo e 3 a 0 all'intervallo il gioco convince i solisti si esaltano allegri guida una giostra no scusate una gioiosa macchina da gol e poi il commento di alberto polverosi nuovi di testa è tutta diversa tutto sport mette la ciliegina silenzio parlano chiese vlahovic che risposta napoli e inter compatti aggressivi e tosti i bianconeri travolgono l'udinese e mandano subito un messaggio alle rivali scudetto coppia in ripartenza ora siamo moderni grazie magnanelli questo era quello che si diceva esattamente un anno fa 21 agosto oggi siamo al 19 barra 20 della juventus dopo un 3 a 0 in casa dell'udinese che con tutto il rispetto qualcosa in più insomma dell'attuale como ce l'ha per non andare in dire ancora di altri anni anche lì juve sassuolo sassuolo distrutto la prima giornata insomma e ci si abbaglia no con queste con queste luminescenze così della prima della prima giornata ma la serie a sarà altro anche con copp meners nel caso anche con nico gonzalez nel caso insomma perché l'avventina ultime notizie aperto alla cessione ma non bastano 30 milioni alla fine insomma o all'atalanta o alla juve arriverà anche nico gonzalez copp meners credo che alla fine andrà a torino ma al parte questo dico siamo proprio quasi quasi drogati no dai super titoli dagli slogan adesso vi ho anticipato quelle che ho letto quelle che erano stati titoli sulla juve l'anno fa ma vi anticipo anche quelli che saranno domani e ora sono le 23 35 a breve usciranno le prime pagine e e secondo me il tenore sarà questo ma sono chiaramente facile facile profeta perché perché conosco conosco i miei polli io resto francamente della mia della mia idea dopo aver visto tutte le squadre un po meno l'atalanta zero la lazio e quella che mi ha convinto ancora di più sull'aspetto della del gioco della consistenza della solidità a livello di principi e di lavoro d'insieme resta l'inter fisiologico anche perché quella che ha cambiato meno non ha cambiato allenatore e tanti piccoli segnali anche però che quella che ha sofferto più infortuni più contrattempi più ha avuto più nazionali eh impegnati tra europeo e coppa america quindi c'è un pro c'è un contro ha un po' visto tutto al momento al di là della della classifica io vedo l'inter ancora ancora avanti ancora avanti proprio come concetto eh generale ma per tanti la juve già campione d'italia fino all'altro ieri lo era il milano e andiamo avanti così andiamo avanti così va benissimo un saluto grazie a tutti